Spingere sempre i confine dell'ingegneria un po' più avanti un po' più vicino al bordo e trovare soluzioni a problemi complessi I clienti vengono da noi e ci chiedono una soluzione a un problema All'inizio ci spaventa e non sappiamo come risolvere perché se chiedono a noi vuol dire che non esiste questa soluzione Poi però dopo pensandoci su, ragionandoci su riusciamo a sviluppare sulla sua richiesta un prodotto che poi diventerà tra i leader del mercato La particolarità di questo bozzello si nota confrontandolo con quello che è l'armamento delle barche di anche solo dieci anni fa Le dimensioni sono estremamente più contenute i carichi più che raddoppiati Questo è grazie all'uso di materiali e tecniche di lavorazione assolutamente innovativi Il mio compito è di realizzare sia il mozzo che la fuleggia che sono tutte e due parti in titanio Il segreto per una buona lavorazione sul titanio è l'utilizzo di utessi dedicati appositi per materiali speciali Bisogna avere molta attenzione nell'attrezzatura Sono macchine di ultima generazione collegate in rete in maniera che con un CAD CAM riusciamo a ottenere prodotti in breve tempo e ben rifiniti Le fresa e inserto hanno la capacità di lavorare con velocità molto più elevate abbattendo dei tempi proprio sulla fresatura Ci sono degli inserti specifici si cambia l'inserto nel corpo fresa dove si riesce a lavorare sia l'allumino sia il titanio sia la EASY 316 Nel finale è il processo più delicato è la parte che ci chiede più attenzione sia nella rifinitura che nelle tolleranze che ci chiedono i progettisti La stampa 3D è ormai una parte integrante della nostra produzione I punti di forza sono sicuramente la duttilità e la velocità In tre giorni riusciamo ad ottenere un lotto completo di particolari per poter montare i nostri bozzelli Un altro dei vantaggi della stampa 3D è che possiamo realizzare particolari con forme più complesse che non sono realizzabili ai centri di lavoro o che comunque richiedono tempi molto lunghi e quindi anche costi più alti Questa è la parte più divertente del mio lavoro qui spingere sempre il confine dell'ingegneria un po' più avanti un po' più vicino al bordo e trovare soluzioni a problemi complessi a Grazie per la visione!